Lunedì 31 ottobre dal Vangelo secondo Luca Con questo brano di Vangelo Gesù non ci invita a rinunciare a tutte le relazioni di amicizia e di fraternità che fanno parte della nostra storia e dei legami che o il sangue o la vita ci hanno fatto avere nei confronti degli altri. Ma Gesù parte dallo sguardo di Dio, Dio genera continuamente per amore, Dio è un padre buono che continuamente genera i suoi figli per amore e i suoi figli sono generati in questo amore gratuito. Allora qui Gesù ci invita a renderci conto che le nostre relazioni più vere sono quelle gratuite, quelle che non sono condizionate dal tornaconto, dal ricevere qualcosa, dal do ut des, Io ti do qualcosa affinché tu mi dia qualcosa in contraccambio, ma nella logica della gratuità, della libertà. Se ci pensiamo le cose più belle da un punto di vista artistico sono nate in una gratuità dell'artista nei confronti dell'umanità intera. Così anche i grandi gesti di amore e di attenzione nei confronti degli altri nascono da un cuore libero, disinteressato dal tornaconto e interessato totalmente a quella persona che riceve quell'attenzione o quel buon gesto. Questo ci mette molto in crisi sulla verità delle nostre relazioni. Sono legato a questa persona perché ne ricevo un guadagno? Sono disposto a fare questo perché ricevo questo tornaconto? Ecco, Gesù ci invita ad essere totalmente gratuiti, animati solamente dal desiderio di dare, di una donazione totale. E questo non nasce e non si sviluppa da una forza di buona volontà, ma nasce dalla presa di consapevolezza di quello che dicevo all'inizio, e cioè l'agire di Dio. Io ci sono perché sono frutto dell'amore di Dio, che non ho deciso io, che non ho predeterminato io, che non ho regolato io, che non ho gestito io, ma nel quale mi trovo dentro e questo mi fa vivere. Allora lo sguardo nei confronti degli altri per il cristiano deve essere solamente questo. E qui ci rendiamo conto che abbiamo tanto da camminare e tanto da crescere, perché spesso le nostre relazioni, i nostri gesti sono tanto condizionati. Ma quando abbiamo amato e donato in modo gratuito, il nostro cuore lì era veramente nella gioia, nella pace. Allora, preparandoci alla festa di tutti i Santi, chiediamo proprio al Signore questa grazia, di vivere così, con un cuore libero, un amore gratuito che ci fa vivere e fa vivere.